Il punto è un polo di tono, è un centro polifunzionale, per esempio il CPT ha finalizzato la centralizzazione di un certo numero di servizi all'interno di un circunto formato da un circuito, in particolare comuni, comunità, scuole, imprese e altri portatori di interesse. Questo è una sostanza anche un polo di economia, ma è un problema molto importante per il suo comune perché l'elevenza è un comune di 70 anni di tanti, quindi avere un nuovo territorio, ma questo è un strumento, sicuramente l'elevenza di quanto riguarda un piccolo mondo di tutto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.